E ora la pagina sportiva Calcio Mercato si entra nella ultima settimana, ormai ci siamo. Enrico Giancarli, ospite nei nostri studi, quali sono le novità in Casa Bianca Azzurra? Buon pomeriggio Carmine, naturalmente un saluto ai nostri amici che ci guardano da casa al TG8. Novità è che il Pescara continua a sondare il mercato per completare un organico che qualche lacuna l'ha dimostrata in fase di precampionato, soprattutto a centrocampo, ma andiamo con ordine. In difesa sempre Ivan Mesic, è il punto interrogativo. Il centrale classe 2001 ha tanti estimatori, centrali mancini di prospettiva e di qualità difficilmente si trovano e quindi Mesic ha mercato. La richiesta del Pescara è una richiesta comunque importante, si sono fatte avanti oltre a una squadra del campionato di Serie B tedesco anche alcune squadre di Serie B italiana, l'ultima è la Sampdoria di Andrea Pirlo. Nel caso Mesic dovesse partire, allora il Pescara deve andare necessariamente alla ricerca di un sostituto in grado di poter giocare, quindi non un giovane di prospettiva. Intanto Stivanello, che era praticamente accostato, cosa fatta il prestito dalla Bologna per il Pescara, andrà a titolo definitivo alla Juventus Under-23. Miranda, che era un altro giovane, classe 2003, accostato al Pescara, ha fatto il suo esordio in Serie A domenica con il Sassuolo e quindi difficilmente ora verrà liberato e nel caso dovesse partire Ivan Mesic, dell'Icarri dovrà cercare un centrale di sicuro affidamento. Era suggestiva l'idea, ma di difficile realizzazione del ritorno di Capuano. Il giocatore attualmente alla Ternana non rientra nei piani della società Umbra e potrebbe anche accettare Pescara, ma al momento non è una priorità. Dicevamo del centrocampo, la novità è che dopo settimane di pensieri Luca Mora potrebbe decidere anche di restare a Pescara. Qualora dovesse restare Luca Mora a Pescara sarà un solo movimento che verrà fatto dal direttore sportivo Biancazzurro. In questi giorni sono stati fatti tanti nomi, tanti giocatori accostati al Pescara. La sensazione è che l'affondo vero debba essere ancora fatto. Nel caso dovesse restare Mora e dovesse arrivare un altro centrocampista, in otto un giovane andrà a giocare. L'indiziato, secondo quelle che sono state le informazioni da noi raccolte, è De Marco, il 2004 prelevato a titolo definitivo dalla Vibonese. E poi c'è il reparto offensivo. Aristi di Colai è dato in partenza da più di un mese. Al momento non si concretizza il passaggio con il Cesena. Si potrebbe fare negli ultimi giorni di mercato, ma Colai ha comunque anche altri stimatori. Di sicuro Colai con Cangiano e con Accornero, che è un po' la rivelazione in positivo di questo precampionato, è chiuso in quel ruolo e quindi dovrà trovarsi una sistemazione. Resta l'interrogativo legato all'attaccante centrale. Perché? Perché sulla carta con Vergani, che da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, Tomassini e Cuppone, Zeman è più che coperto in quel ruolo, ma Vergani e Cuppone hanno estimatori. Potrebbe arrivare l'offerta giusta per uno di questi due attaccanti e il Pescara in quel caso dovrà andare a cercare un sostituto. I nomi che piacciono sono ambiziosi. In cima alla lista c'è sempre Gabrielloni del Como, ma al momento resta un sogno proibito. A destra invece è il reparto dove il Pescara sta più che bene con Davide Merola e con Massa, l'ha prelevato da svincolato l'ex Cagliari 2003. Sta dando comunque garanzie e in quel ruolo può giocare anche Cangiano e quindi il Pescara in quel ruolo è l'unico dove al momento in attacco non ci sono interrogativi in entrate e in uscita. Bene, grazie Enrico. Dunque poche e mirate le operazioni che si stanno cercando di concludere entro la fine della campagna trasferimenti.